credo che i docenti scuole medie che sono mediamente molto preparato bravi molto appassionati almeno questa è la misura che ho avuto io come dire andando in molti luoghi a raccontare confrontarmi con i bambini e quei ragazzi con gli insegnanti stessi e tuttavia si confronta con una disciplina complessa perché una disciplina in cui è dato in qualche modo per acquisito che la storia è quella lì no ci sono dei come dire dei luoghi comuni su storia duri a morire duri a scalfirli uno dei quali è questo ma cosa io mi ricordo io segnavo al liceo quando tanti altri un'altra vita insegnavo al liceo prima dell'università e questa questa peregrinazione di insegnanti di genitori che arrivavano dicendomi ma cosa ci vuole mio figlio non sa la storia ci vuole basta studiare cioè come se fosse un una sorta di come dire di bidone dove dentro le cose basta prenderle cosa ci vuole chiunque lo sa fare chiunque sa maneggiare le cose maneggiare le cose e invece la storia è prima di tutto un un'operazione complessa io quando quando racconto ai miei studenti la storia e dico normalmente che secondo me la storia è fatta di quattro cose è fatta del ricercare è fatta dell'interpretare è fatta dell'immaginare che la parola che gli sembra più strana ma in realtà lo storico immagina tantissimo non è mica di fronte a quello che è accaduto e poi del raccontare queste quattro operazioni del ricercare dell'interpretare dell'immaginare del raccontare soprattutto meno che neutre soprattutto meno che prendere delle cose che sono lì e trasferirle in un discorso invece è un'operazione non solo complessa ma affascinante secondo me allora io credo che gli insegnanti possa essere utile perché il tentativo almeno non so se è riuscito almeno il nostro tentativo era quello di di dire a tutti che la storia è una cosa divertente e se la si affronta nel modo giusto è una cosa divertente affascinante e ci riguarda non riguarda qualcosa che fuori da noi ma riguarda qualcosa che che dentro da di noi che risponde alle domande che abbiamo tutti i giorni ci può aiutare risponde alle domande che abbiamo tutti i giorni ci può aiutare a capire anche noi stessi ci può affascinare no vedere come gli uomini e le donne agiscono su questo grande palcoscenico che è il passato no e noi che possiamo in qualche modo scegliere ciò che ci interessa provare a fare delle domande provare a rispondere in fondo la storia se mi permette ancora un secondo io continuo a pensare che sia fatta di quella cosa che la più naturale in ogni bambino ogni bambino chiede una cosa perché c'è chiunque ha avuto figli cioè due figli sono bambini perché perché fino alla noia fino all'insopportabilità chiedono ai genitori perché e la storia quella roba lì e vedere una cosa di un fatto vedere qualcosa che avvenuto mandarsi perché è accaduto cioè la storia come dice un grande storico che si chiamava eduarda è storia di cause cioè a noi interessano le cause interessa cos'è accaduto quello che è accaduto è dato no e la distinzione che c'è tra passato e storia no il passato è tutto ciò che è accaduto ed è accaduto anche se un po come l'albero nella foresta no e anche se noi non lo vediamo anche se noi non lo conosciamo anche se noi non riusciamo a percepire è accaduto quello è il passato la storia invece è l'interpretazione del passato e la selezione di ciò che ci interessa e cercare di rispondere alle domande su quel passato quella è la storia ed è quindi per me faccio lo storico per cui se non pensare una bella cosa non lo farei ma io lo trovo affascinante lo trovo divertente questo è quello che diceva un altro grande storico si chiama mark block la storia per me è divertente allora se noi riusciamo a comunicare che la storia può essere divertente facciamo forse un buon servizio sia agli studenti che agli insegnanti